Allora vedremo che Dio ha creato il pensiero umano così che l'essere umano sia in grado di garantire a se stesso e anche a tutti gli altri la vita eterna tramite il suo pensiero Dio ha anche inserito nel nostro pensiero sia la chiaroveggianza pelotante che la previsione pelotante E se vi ricordate abbiamo parlato del fatto che la risurrezione si produce e avviene anche attraverso la sfera del nostro pensiero E ciò che Dio ha inserito nel nostro pensiero le funzioni che ha inserito queste sono le cose che possiamo conoscere che possiamo studiare infinitamente Ed io l'ho creato anche in modo tale che il pensiero abbia il contatto con il corpo fisico In altre parole il pensiero ha il contatto con il corpo fisico In più il pensiero ha anche il contatto con l'anima Perché da dove proviene il nostro pensiero e anche la nostra aspirazione per la vita eterna felice, infinita Proviene in realtà dalla nostra anima Perché il nostro pensiero contatta la nostra anima E così noi possiamo percepire tutto il futuro infinito E lavorando anche con le sequenze numeriche possiamo percepire quella infinità che si trova al di fuori dell'infinito Quella eternità che si trova oltre l'infinità E lo possiamo percepire anche istantaneamente Quindi possiamo percepire ciò che si trova oltre all'infinità Perché il nostro pensiero è collegato al nostro spirito E il pensiero è sicuramente il nostro pensiero è anche collegato alla coscienza E così iniziamo a trattare il nostro pensiero come lo strumento divino che ci è stato dato da Dio Perché lui ci ha dato il pensiero per darci la possibilità di garantire la vita eterna sia a noi stessi che a tutti gli altri E così iniziamo a trattare il nostro pensiero con l'ammirazione Lo vediamo come un dono bellissimo, come un dono molto prezioso dato da Dio nel quale Dio ha inserito anche tali funzioni come la chiarovigenza pilotante, la previsione pilotante e anche altre possibilità Quando iniziamo ad amare in questo modo il nostro pensiero anche la forma del nostro pensiero si stabilizza Possiamo paragonarlo a un tale fenomeno, per esempio quando sta piovendo ma allo stesso tempo durante la pioggia c'è anche il sole che splende Allo stesso tempo è come se noi fossimo sotto questa pioggia e allo stesso tempo alzassimo lo sguardo per vedere il cielo E quindi iniziamo a guardare le gocce della pioggia per vedere come si riflette la luce del sole in quelle gocce Allo stesso tempo è che scopero per vedere il cielo Io non c'è anche il mondo E quindi iniziamo a guardare le gocce della pioggia